Resta alta l'attenzione e la vicinanza dello Stato e della Prefettura su San Luca e sul territorio della Locride. Dopo l'inaugurazione del campo di calcio lo scorso 21 aprile, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per le pari opportunità Maria Elena Boschi, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Elignini e delle altre autorità civili, militari e religiose, il prossimo 8 maggio presso la medesima struttura sportiva, la scuola calcio Segato Viola di Reggio Calabria, in collaborazione con la società Real di San Luca, terrà con inizio alle ore 15 uno stage tecnico valutativo per conto della società Juventus, di cui saranno protagonisti giovanissimi calciatori nati nel 2003 e nel 2004, provenienti da tutta la regione. Il messaggio è chiaro, le istituzioni in sinergia con la società civile e i corpi speciali puntano alla pratica sportiva come strumento per il recupero sociale dei giovani, in aree ad alto tasso di disagio e per la riaffermazione della legalità. Sport e legalità sono un unico valore e quanto più volte infatti ha ribadito il prefetto Michele Di Bari nelle tante manifestazioni che si sono svolte in questa provincia. Lo sport, afferma convinto il prefetto, è un modo per radicare nelle coscienze dei giovani la legalità sui valori quali la lealtà, la solidarietà e il rispetto delle regole degli altri e la pratica sportiva intesa come stile di vita sano anche dal punto di vista interiore che favorisce la maturazione equilibrata della personalità e l'educazione all'impegno sociale civile e alla partecipazione, vero e proprio strumento di aggregazione contro ogni forma di discriminazione sociale. Su questo solco e in tale prospettiva Di Bari si è fatto promotore di un torneo di calcio Interforce in programma per il prossimo autunno che verrà disputato proprio a San Luca.